La prego, la prego, apra la porta. Che è successo? Avete seguito la procedura? Io non ho tempo per queste stronzotelle da poliziotto! Come ti chiami? Leon. Che nome cazzuto? Ma hai conosciuto una donna? Leon, tu devi fare molta attenzione con le donne. Leon, sei un sicario? Sì. Quanto costerebbe assumere qualcuno per fare fuori quelle carogne che hanno ucciso mio fratello? Fai intervenire tutti. Che vuoi dire tutti? Voglio dire tutti! Leon, il nuovo capolavoro di Luc Besson, lo straordinario regista di Nikita. Il nuovo capolavoro di Luc Besson, lo straordinario regista di Nikita. Il nuovo capolavoro di Luc Besson, lo straordinario regista di Nikita. Il nuovo capolavoro di Luc Besson, lo straordinario regista di Nikita.